Oltre quattro mesi di ritardo rispetto agli impegni del cronoprogramma di messa in sicurezza di Torre Guaceto e l'allarme lanciato alla Regione Puglia dagli ambientalisti dei forum di difesa del parco, l'emergenza riguarda le trincee drenanti, le dighe che dovrebbero bloccare gli scarichi del depuratore consortile di Carovigno, un impianto costruito a due passi dalla riserva naturale di prestigio europeo, di cui l'esigenza di tutelare il cuore dell'oasi naturale in base ad un piano di interventi messo a punto a settembre scorso da Regione e Acquedotto. Qui l'incontro con l'assessore al territorio che ha rassicurato il forum. Il 30 prossimo quindi davvero ci siamo, ci sarà la chiusura definitiva formale del procedimento di via. Adesso l'impegno ad incontrare l'Acquedotto perché il cronoprogramma venga rispettato. I dati relativi alla qualità delle acque sono tutti, dalla fine del 2014, tutti al di sotto dei parametri stabiliti per legge. Soddisfazione a metà per gli ambientalisti che oltre alle trincee chiedono di abbandonare l'ipotesi della condotta sottomarina per risolvere definitivamente il problema di Torre Guaceto. Oppure il riuso delle acque che è una soluzione che ci convince di più e che era quella che paventavamo anche all'inizio e ci meravigliavamo di come mai l'unica soluzione fosse portare la fogna di questi tre comuni a mare. Riutilizzare le acque a scopo agricolo può essere una soluzione.